nata a Roma ma di origini piemontesi. La madre invece era toscana. Ha recitato in numerose pellicole tra cui ricordiamo Fatti di gente per bene, 1974, di Mauro Bolognini, lontano da dove, 1983, per la regia di Stefania Casini e Francesca Marciano. Che le vale il nastro d'argento come miglior attrice non protagonista? La famiglia, 1987, di Ettore Scola, Tolgo il disturbo, 1990, di Dino Risi, Parenti serpenti, 1992, di Mario Monicelli, Un'altra vita, 1992, di Carlo Mazzacurati, Maniaci sentimentali, 1994. Di Simona Izzo, con cui vince il David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Dagli anni 90, per il cinema, lavora prevalentemente in commedie dirette. Tra gli altri, da Carlo Vanzina, Selvaggi, 1995, Christian De Sica, Simpatici e Antipatici, 1998, Alessandro Haber, Scacco pazzo, 2003, partecipando inoltre a varie fiction televisive. Tra cui lo zio d'America. Rai 1, dal 2002, Elisa di Rivombrosa e un ciclone in famiglia. Entrambe in onda su Canale 5. Dal 2005, nel corso della sua carriera ha preso parte, con dei piccoli ruoli, a grandi produzioni internazionali. Nel 1982 è diretta da Francis Ford Coppola nel film Un sogno lungo un giorno e nel 2009 e nel Musicola di Rob Marshall 9. Nel quale recitano, tra gli altri, Daniel Day-Lewis, Nicola Kidman e Penelope Cruz. Nel 2010 interpreta il ruolo di Ilaria in Due vite per caso. E quello di Sylvia Theodorani in Tutto l'amore del mondo. Nel 2012 invece, lavora nella produzione francese Cloclo. Un film ispirato sulla vita del cantautore Claude François. Dopo la fine del matrimonio con lo scultore Giancarlo Neri. Col quale ha vissuto per anni a New York. Per 16 anni è stata la compagna del collega Roberto Brunetti. Di 11 anni più giovane. Ma la loro storia si è conclusa nel 2011. Nel dicembre del 2014 presenta il suo primo lavoro da regista. Il cortometraggio Love Sharing. Interpretato da Alessandro Haber, Luca Argentero, Sandra Milo ed Eugenia Costantini. Il 4 gennaio 2015 partecipa come concorrente ad Avanti un altro. Condotto da Gerry Scotti. Nello speciale della domenica dedicato alle vacanze di Natale a Cortina. Il 4 febbraio 2015 l'attrice si spegne al Policlinico Gemelli di Roma. Dove era ricoverata in seguito all'aggravarsi del tumore che l'aveva colpita. I funerali, a cui partecipano tanti amici e colleghi. Hanno avuto luogo il 7 febbraio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma.